Non le piacciono le anticipazioni sul decreto semplificazioni, no? Allora, guardi, in questo Paese si è parlato sempre di semplificazioni. Io le ricordo che già nel 2020 è stato fatto un decreto semplificazione dal governo Conte. Io allora, ero ancora al Movimento 5 Stelle, votai contro perché anche lì vi fu una deregulation degli appalti e vi fu la modifica dell'abuso d'ufficio, ovvero quel reato veniva sostanzialmente eliminato. Non veramente, ma sostanzialmente nei fatti veniva eliminato. Le nuove semplificazioni sono ancora peggio di quel decreto semplificazioni che venne fatto allora, perché si ritorna al massimo ribasso, ovvero viene eliminata totalmente la sicurezza nel regime degli appalti. E cosa succede quando c'è il massimo ribasso? Succede, questo veniva sempre nel passato, sempre, bisogna imparare sempre della storia, che nel tempo si verificava che le aziende non potevano più arrivare a quel lavoro con quel ribasso, eventualmente fallivano o si chiedevano varianti in corso d'opera a carico di cittadini. Quindi il massimo ribasso serviva solo per fare affari alle solite aziende che potevano occuparsi di quegli appalti a cui magari non potevano aspirare con un'offerta economicamente vantaggiosa. Ma parliamo anche di subappalto, perché si parlava nella bozza anche di una deregulation sul subappalto, ovvero dare appalti a aziende che non hanno il materiale, sembra brutto dirlo, delle persone per poterci lavorare, danno a subappalti a terzisi sostanzialmente, che li trattano, che possono essere eliminati da un giorno all'altro. Ma c'è tanto, c'è il dibattito pubblico dimezzato, ovvero abbiamo talmente tanta fretta di fare opere, su cui non sappiamo neanche l'utilità, che il dibattito pubblico, che è una forma di democrazia partecipativa, viene dimezzato. Ovvero in 30 giorni cittadini, ma anche altre imprese, devono poter leggere mega opere pubbliche, quindi analisi di mega opere pubbliche, in 30 giorni fare le proprie osservazioni. Ma in che mondo si può andare avanti in questo modo? E soprattutto, quali tipi di opere riusciranno a farne in questo modo? Ci torniamo, vi prego, è tardissimo. Ci torniamo perché ha sollevato una questione cruciale. Ma non è vera, non è vera, sono tutte opere di cui si sa già. Potrai replicare, sentiremo gli altri ospiti, però... Scusate, è arrivato...